Gabriella Riccio, coach di spinning del team Gaita, presenta quella che è la disciplina del momento, praticabilissima in tempo di pandemia. La professionista ci spiega come è nato lo spinning. La pedalata è composta da quattro fasi ed ha una durata ben precisa. Disciplina adatta a tutti ma ci sono tanti eater da seguire. Vediamo quali. Grazie a tutti.